Senti, più o meno... Ma lo conosco, non è che non lo conosco. Una cosa veloce, dai. I punti caldi del Movimento 5 Stelle a Parma sono bilancio partecipativo e defendo proposito senza quorum. Adesso, più o meno, secondo te, in quanto tempo vedremo avverate queste due cose enormi? Allora, bilancio partecipativo è la cosa, dico, più immediata nel senso che è una di quelle cose che sarà poi debito partecipativo, probabilmente, però è comunque, come hanno fatto a Colorno, cioè almeno scegliere eventualmente quali sono... più o meno nel 2013, diciamo. 2013, 2013 questo è sicuramente. Più o meno marzo, aprile. No, questo non so cosa... arrivo, adesso arrivo. Quindi, no, quello non te lo so dire, ma 2013 sicuramente. Mentre per il referendum... Bagnozzi, che ben tutti conoscete, comunque sta già guardando per come si può introdurre, perché sta cercando di vedere quali altri lo hanno già fatto. Da Bolzano, per esempio, l'ha fatto. Però questo lo sta seguendo l'Unter. Sì, magari i ragazzi, cioè il Merdemocrazia di Bolzano vi può aiutare. Volentieri, ma come dire... Lausch, so che Carpentini è andato a Bolzano a sentire... Non lo sapevo, non lo sapevo io, ma basta citarlo, esatto, o a Peppe o a Bagnozzi. E quindi magari anche nel 2013 si potrebbe... Non lo so... Compatibilmente con la burocraticità, insomma. Esatto, perché è quello. Grazie. Ah, siete venuti da me! C'era solo Carpentini, c'era anche la sessione.